Salve a tutti cari linko se vi ritrovate in questo video che non mi aspettavo di certo di poter fare Non è clickbait ma è una cosa che veramente mi ha sconvolto In chat su Instagram qualcuno di voi mi ha inviato un messaggio che poi era alla fine un video dove si sentiva proprio Charles che si era mutato nella stessa chat di Discord dove c'ero io come tutti gli altri che vedete nel video che vedrete presto E parlava di me guardava il mio onboard quindi mi spiava e questa cosa qui mi ha fatto sbellicare delle risate ovviamente in maniera positiva e mi ha fatto capire due cose che andrò a dirvi durante la visione di questo video Assurdo Prima di iniziare volevo dirvi soltanto delle piccole cose ovvero che forse l'audio o meglio il mio microfono dovrebbe essere davvero migliore rispetto a quelli passati Eccolo qui stavolta viene dal cielo il mio microfono quindi dovrebbe andare molto bene ho comprato il braccio ho comprato proprio un microfono diverso Seconda cosa io mi sono allenato due giorni ma in particolare l'ultimo giornato ovvero ieri mi sono allenato anche in live su Twitch trovate il link in descrizione Per questa All Stars Race che partirà proprio stasera dalle ore 21 quindi sarò in diretta dalle 20 e 40 circa con questi qui No no davvero questi qui No aspettate questi Insomma avete idea di quanta gente c'è Vi dico soltanto alcuni nomi che avete già visto eh Lando Norris, Griezmann, Valentino Rossi, Pecco Bagnaia, Charles Leclerc, Arthur Leclerc, Giovinazzi, George Russell, Albon, Tony Parker che è un cestista famoso in America naturalmente dove se no Quindi wow Pasini, Fuoco, Romagnoli, Immobile, basta Cioè io basta Non potrà mai essere vero tutto ciò ma io avrò l'onor di far parte di questa gara, di questo evento in arte di youtuber così come alcuni sono entrati appunto a far parte Così come me ed è un evento che di show non ha praticamente niente ma lo andremo a vedere adesso Perché dico questo? Beh andiamo a vederlo insieme con voi Clicchiamo sul live, l'estratto di live di Char perché ieri era il live quando ha fatto tutto ciò naturalmente E sentite insieme a me No ma c'avevo il setup quello da Questo qui naturalmente è Vanzini perché c'è anche Vanzini Ok l'hai salvato? Sì Attenzione In questo momento sta guardando Matteo Bobby, MB Il cursore che vedete è il suo non è il mio quindi attenzione Andrà a vedere me adesso quindi attenzione Attenzione Eccoci qua Quindi guardate un po' con quanta accuratezza cercherà di vedere il mio giro Impressionante, ve lo assicuro è una cosa impressionante Parlerà in inglese Ok, curva 1 taglia molto, curva 2 invece non la taglia Ok, curva 1 taglia molto, curva 2 invece non la taglia Esco un sacco Un sacco Esco un sacco e porto un sacco di velocità in curva Oh eccoci qui Questo è uno dei due punti che avevo detto poc'anzi Praticamente lui dice è molto strano il modo in cui guida Ma lavora sicuramente meglio così nei sim Ecco perché lui ci prende due tre decimi insomma Quindi comunque poco rispetto a Non stiamo parlando di secondi ma di decimi Quindi di dettagli Quindi attenzione Lui dice questo Però intanto dice is unbelievable Quindi è incredibile Come l'altra volta su Formula 1 ha detto È impressionante È veramente assurdo quello che fanno E prima durante questa live Non era montato e quindi parlavamo insieme Ci sono trovati in pista assieme E lui era dietro di me e mi ha detto Ah Mos ma stai facendo apposta sbagliare traiettorie Gli faccio no 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 Ah ok perché vedo che esci tanto largo nelle curve Gli faccio sì perché io porto velocità in curva Eh vedo che infatti funziona Infatti in quel giro lì Quando me l'ha detto ho fatto 33-0 Che non era per niente male In questo giro invece ho fatto veramente diversi errori Un po' cagare Ovviamente non sapevo che mi stesse guardando Quindi io ho fatto la mia run tranquillamente Non avrei comunque fatto finta di fare un brutto giro Se avessi saputo che mi avrebbe guardato Quindi semplicemente ho fatto una run un po' schifo Un po' di merda perché ho fatto 33-5 Ma anyway comunque è stata una bella È stato un bel confronto Perché ha visto dove comunque in determinate curve Lui perde e lui guadagna Ma attenzione perché non è ancora arrivato il pezzo clou Il pezzo che proprio mi ha fatto schiattare da ridere Ma mi ha fatto capire tanto su questo show Che gli show non ha niente appunto Non ho portato molta velocità qui Ho proprio sbagliato Però attenzione Per me è Ivy Ok giro non ottimo Il giro di prima è stato 33-2 Questo qui è 33-5 Non buono Non ha niente di che è il mio giro Tagliato poi tra l'altro Quindi adesso va nel replay Ho fatto il mio miglior giro L'altro giro 15 Ma attenzione Lui durante la sessione è uscito E quando è rientrato Io avevo già fatto il tempo Questo vuol dire che chi esce dalla sessione Rientra Non vede i determinati giri in cui manca Ecco Quindi Lui adesso andrà a vedere qualcosa Che effettivamente non può vedere Perché non ha Non ha Non c'è Ma guardate la reazione Guardate la reazione di Charles Lab 15 Cannon Let's go and see him 3 Lab 15 No Are you joking? He quitted He quitted He quitted For me Ma non penso che l'abbia fatto di proposito No non penso Non penso proprio Capite questo cosa vuol dire? Che lui pensa che io Abbia quittato apposta dalla sessione Ovviamente dopo nella chat Gli hanno detto Che in realtà è perché era lui Perché lui era uscito E quindi non aveva i miei tempi Quindi l'ha capito Ma lui quando ha visto in diretta Dal vivo Questa cosa qui Ovvero che non vedeva il mio giro Ha subito pensato Tra virgolette male no? Ovvero che io mi sono nascosto Per non fargli vedere come giro Ed è una cosa meravigliosa Io un mese fa Non pensavo minimamente A una cosa del genere Se mi avessero detto Guarda che c'è Leclerc che ti vuole spiare Vuole vedere come fai i tempi Io avrei detto Vabbè ma che cazzo stai dicendo Ma che sogno ti sei fatto? Che cosa ti sei fumato? Molto molto simpaticamente parlando E niente ragazzi In realtà Lui Poi si è reso conto Immediatamente Un secondo e mezzo dopo Che Non pensa che l'ho fatto di proposito Però Capito cosa voglio dire Quando dico che di show Non c'è niente Lui vuole vincere Non solo lui Tutti vogliono vincere In questa competizione E quindi Questo vuol dire Solo una cosa Che stasera Ci daremo battaglia Fino alla morte Speriamo Di passare indenni Curva 1 Curva 2 Perché è un cartodromo misano E saremo più di 40 macchine in pista Però gara 1 Dove dovremo Avere le posizioni della qualifica Gara 2 Con grilla invertita Non si sa Se dal primo passi ultimo O primo ventesimo Primo quindicesimo Non si sa Ancora questo non si sa Però ragazzi Ciò vuol dire davvero tanto Per me È un onore Far Far Farmi vedere Da voi Perché mi avete mandato voi Questo video Diciamo che È un onore Il fatto che Charles sia andato a spiarmi Mutandosi Durante questa Chat Su vocale di discord Quindi nessuno lo sapeva E poi si è tornato Come se nulla fosse Con noi a parlare Questo per me È un onore Incredibile E vi assicuro Che mi ha fatto davvero Tanto piacere Soprattutto la sua reazione Quando ha visto Che non avevo il giro Da poter vedere E quindi lui ha detto Ah l'ha fatto apposta Eh per me No Troppo bello Veramente troppo bello Quindi Rinkos Questo è tutto Noi ci vediamo All'Elemente 40 Come ho detto Vi voglio bene Vi do un bacione Un abbraccio E a presto Ciao 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 a tutti Grazie per la visione!